Ciao, benvenuti in questo primo episodio del Natale con Ariel! Oggi eccezionalmente non sono da sola ma c'è anche lui! Cosa stai facendo? Cosa fai? Stai montando sulla scala! E perché stai montando sulla scala? Perché così possono aggiungere! Dovrò aggiungere che cosa? Vieni qui! Quelli lì! E cosa sono quelli lì? Le decorazioni! Sì? Vieni qui! No, ehi, Alessio! Cosa devo salire? Amore, è meglio se ci sale mamma! Mamma che ci salio io! Ci sali te? Sì! Ma non ci arrivi lassù! Forse ci arriverà stento mamma lassù, amore! No, ci salgo io! Non si può dire che non sia spericolato il mio figlio! Basta! Eh, e adesso che stai lì? Devo salire ancora! Intanto mandiamo la sigla, poi vediamo che cosa succede nel frattempo! Che io soffro di vertigini! Sì! E ho paura delle altezze! E oltretutto sono incinta! E' un po' se arriva a paperissima questa... Questa ultima... Con calma che ce la faccio! Sì, un attimo, con calma che ce la faccio! E devo vedere altre... Alessio! Decorazioni! Sì, amore! Tanto c'è una sola scatola con le decorazioni! Che preferisco che caschi lei, non che casco io magari! Vai, ce la fai? Sì! Bravo che c'è un mio, bravissimo! Bravo che c'è un mio, bravissimo! Bravissimo! Eh sì! Ce l'abbiamo fatta! Ok, allora... Sono riuscita a tirare giù la scatola e purtroppo è successo un po' un dannetto, piccolo danno che però sono riuscita a rimediare alla bene meglio e quindi adesso se Alessio mi vorrà aiutare sarà il benvenuto se no faccio anche da sola, comincerò a mettere le prime decorazioni di Natale e ragazzi vi ricordo che voi questo video lo vedete il primo dicembre perché oggi che è il primo dicembre ma io lo sto vivendo al 23 novembre quindi facciamo un attimino di... Eh, ok! Arrivi? Sulla mensolina lì, eh, amore! Questa qua su! No, questa qua! No, così! A te! Così! Ecco qua! Seduti! Così seduti, sì, hai visto? Adesso mettiamoci un'altra decorazione! Sì, adesso ce la mettiamo! Wow, dammela, dammela! No, no, dopo, dopo la mettiamo, amore, all'ultima! È molto grossa! È spigante! Eh sì, è grossissima, guarda qui! Guarda com'è grossa! È come l'erba! No, amore, non è come l'erba! No, amore! Questa si mette dopo, forza! Allora! Allora! Tanti fili di Natale che da rimetterci le batterie, poi, oltretutto! Oh, questo lo possiamo mettere qui nel villaggino di Natale, eh, che dici? No, amore, ci vanno messe le pile! E poi dobbiamo creare il villaggetto lì da, da, lì nel vassoio, dobbiamo rifare tutto il villaggino, ci dobbiamo mettere la neve! Anche qui bisogna mettere la batteria! Sì! Allora, no, perché questi sono per il sottoalbero! Questa è la ghirlanda da mettere! Dove la mettiamo questa? Non lo so! Uh, questo chi è, amore, guarda un po'? Chi è questo qui? È quello che avevi fatto te! Sì! Ah, ok! Allora poi questo lo mettiamo, questo poi lo mettiamo da qualche parte! Allora, ti ricordo infatti che c'erano anche più decorazioni, com'è che sto fatto? No, amore, ma non resti all'albero queste? Ma quello sono queste? Sono i fili da mettere all'albero, quindi mi sa che tutte quelle altre sono lì insieme all'albero! Cosa è queste da te? Amore, cosa ci devi fare? Ma cosa stai facendo? Perché come stai facendo, mamma? Oh, mamma mia! Come stai facendo? Certo! Quindi, per adesso mettiamo le decorazioni che ho tirato fuori, E fra cui la ghirlanda Anche quella la dovrò mettere da sola, ma Per quella ho già i chiodini di partenza, quindi non è difficile da mettere E poi niente E poi dovrò aspettare Simone per tirare giù La scatola non è grande, per dentro ci sono anche altre decorazioni Quindi Vediamo un po' cosa viene fuori, eh! Va bene! oh funzionano sì mamma funzionano le voglio accendere io aspetta 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 vai eeeh di nuovo tutto acceso sì funzionano ancora e adesso cerchiamo di rendere vivo questo villaggino natalizio a cui ho preso questi mini abeti e queste casettine per mettere le candele il vassoio ce l'avevo già era già mio però per dare a tutto un'aria ancora un pochino più natalizia ho comprato del cotone idrofilo per simulare la neve intorno alle casine e sugli alberi praticamente è un life hack che mi ha dato mia mamma ieri perché mi ha detto guarda Claudia per stimolare la neve per renderlo anche più carino prendi del cotone idrofilo fai delle palline piccoline lo metti sugli abeti e stimoli un po' di chino di neve e poi magari lo metti un po' sul vassoio a stimolare che abbia nevicato quindi vediamo come viene sono curiosa anch'io che dite un pochino più realistico così magari in alcuni punti appreso in altri no vedi che è carino così Alexa stop carino e ora lo faccio anche sui altri mini abeti e questo è il risultato finale io direi che è carino è carino no che ne dite fatemelo sapere nei commenti se vi piace io lo adoro a me piace un sacco piace molto a me è così molto 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 carino ok andiamo un po' allora due pile allora c'è anche la luce non si vede una cippa ma che carino ecco qua ok e anche questo è pronto ok allora per il momento ci fermiamo qui ci vediamo domani il due quindi domani oggi è il primo cioè quando esce il primo quando esce questo video è il primo quindi ci vediamo domani che è il due per la seconda parte del decoriamo la iniziamo a decorare la casa però domani molto probabilmente vi vedrete da sola perché decorare la casa con Alessio che è iperattivo e vuole fare tutto lui e vuole toccare tutto lui è no non si può fare quindi ci vediamo domani con un nuovo episodio di con la seconda parte di questo primo Natale di questo Natale con Ariel 2022 ciao ciao ciao